Guarda, te lo dico chiaramente, voglio vanna via. Arrivi al punto che non gliela fai più a gestir' una determinata situazione. 21 milioni di euro l'anno, ma che ce faccio? Cioè, una volta che te sei comprato, 30 case, 150 macchine e 3 pianeti, cioè poi so finiti i sordi. 21 milioni, sembrano tanti, ma non so niente. E poi non mi trovo proprio più bene che i compagni, soprattutto con Bale che la deve smettere. È da quando è arrivato che mi copia. Qua ho esciato a finale dei Champions, non sa, poteva risparmiare. Mo sto valutando un po' le proposte delle altre squadre, tipo il PSG, ovvero il Parigi Santo Germano, c'è star Manchester United, il Bari, il Benevento, il Frosinone per esempio. Quelle sono squadre delle altre categorie. No Real Madrid, ormai il Real Madrid ha smesso da nà de moda, cioè chi so fila più. Hanno vinto di tutte, il Champions League, il campionato, il Mondiale, la Coppa del Nonno, la Coppa della Parocchia di San Girolamo, il Trofeo Porchetta, la Coppa Internazionale, l'hanno vinto a Brisco, la 3-7, la scopa. Mai non c'è sta più niente da dice. Pure Zinedine Zidane se n'è accorto, il coscia pelata, infatti se n'è nato, perché c'è, non c'è proprio più vince niente dentro a sto club. O so, o so, o so che avevo detto che mi ritiravo con Real Madrid a 41 anni, però se dicono tante strozzate nella propria vita. Poi metteci pure che quel giorno stavo fattissimo, Benzema aveva portato il puzzone suo. Ancora, ancora, ancora i guardie pensano che venne il kebab. N'hanno capito che è tutta una copertura. Stavo così rotto che per sbaglio ho usato Mifio come spazzolone d'ercesso. Stavo così fatto che ho accannato la macchina e sto tornato in treno, vedete. Vabbè, non ci trovo niente di male a tornare in treno. Pure mi madre mi ha detto così. E il problema è che il treno l'ho rubato e lo guidavo io. Comunque la destinazione più probabile è l'Italia, perché mi moglievo all'annan Italia. Molte squadre sono interessate a me, tipo a Lazio, però l'Odito mi voleva pagare i buoni pasto, che ne chi butto, eh, ne chi butti. Però mi aspettavo un po' di meglio. Il Napoli, De Laurentiis, mi ha detto Vi è qua da noi, vi è qua da noi. E il problema è che là si mangia troppo e quindi va a finire dentro come Ronaldo e il fenomeno adesso. Cioè, mi immaginate che ha la panza. Poi c'è sta la magica Roma. Però il problema è arrivare allo stadio. Pure pa'allenamenti, devi fare accordo. De solito rimani nel traffico dai 5 ai 6 anni. E io non me lo posso permettere. Perché ho detto che a 41 anni smetto di giocare, va a finire che mi ritiro macchina così. C'è una squadra in cui molto probabilmente andrò quasi al 99,99%. Ed è... Belli chicchi, se vi è piaciuto lasciate un like, condividete questo video ovunque, su Whatsapp, su Facebook, dove pare. E noi ci vediamo al prossimo video. Belli chicchi! diomini! No! Grazie a tutti.